La mini cuffia Hi-Tech, senza fili, si può connettere in Bluetooth a smartphone e tablet. È dotata di un mini microfono integrato su cavo ed indicatore funzioni a LED. Le funzioni possono essere gestite tramite annuncio vocale. La sua batteria a litio è ricaricabile tramite USB. Ha un'autonomia di circa 5 ore e si ricarica facilmente in un'ora.